naso, gatto, gatto, naso, 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 gatto, naso, il Milan affonda, la Juve decolla videogatto, mamma mia, ho fatto un po' di muco per fare un videonaso, videonaso, videogatto, gatto che si struscia, mamma mia, il Milan ha preso un tiro ogni tre minuti, un disastro, però io con tutto rispetto per i tifosi che soffrono del Milan, rispetto, non sono ironico, io non avrei fatto la contestazione, cioè se fai la contestazione al Milan è perché magari anche qualcuno in curva sa che c'è qualcosa che veramente non va, altrimenti quando cambi totalmente allenatore, quando sposi una certa filosofia nuova, quando fai un certo tipo di mercato, quando dopo tanti anni cambia l'allenatore e lo staff, o c'è qualcosa che noi non sappiamo, i ragazzi della curva sanno, se no è una contestazione che io non condivido, cioè nel senso fosse Natale, qui fa così freddo che sembra Natale, ho acceso gli scaldamenti, però fosse Natale uno dice cazzo, esperimento fallito, a gennaio cambiamo, hanno buttato, però prepariamoci per l'anno prossimo, ma al 15, 16, 17 settembre, prima di un derby, scagliarsi contro tutti, dicendo ci avete rotto il K e tirate fuori i K, è giusto, però diciamo che ecco, diciamo che avevano già dato l'ultimato, probabilmente la partita con Venezia non ha fatto testo, si può perdere con Liverpool, ma non così, però il discorso del progetto, ripeto, poi i tifosi sono quelli che pagano e sono liberi di dire, parlare, contestare, o sanno qualcosa che non sappiamo, cioè lo spogliatoio è rotto, il mister non ha attecchito, non piace, qualcosa oppure, cioè qualcosa non piace e anche la società ha fatto qualcosa d'estate che non andava affatto, nel senso che poi ha cannato, oggi abbiamo visto Magnani, sostituito da Torriani, da Vimodrone, che è stato tenuto perché non si è voluto prendere un secondo portiera, c'era in ballo scuffe, mi pare, comunque, una situazione che va a portare il Milan, il Champions non conta niente, il Champions deve vincerne cinque, ce la puoi benissimo fare, anche meno, oddio, per fare il playoff anche meno, per qualificarti ne bastano cinque, ne bastano, però voglio dire, la Champions fatta così, una sconfitta, conta meno che in un girone, a meno che non perdi quella prima, comunque, dicevo, in campo si è visto un buon Milan nel primo tempo, vogliosissimo e fa gol, bellissimo, io per dire ero sicuro che il Milan vincesse, perché Liverpool aveva un po' di turnover, perché è venuto qua un po' pagliaccio, perché anche il Milan, scusa, anche il Liverpool ha un nuovo, non riesco a parlare che c'è un gatto aggrappato da Cicci, quindi, dicevo che ho visto il Liverpool un po' pagliaccio, l'ho visto per un bel po', poi di colpo il Milan subisce le traverse, subisce due gol dentro l'area con Magnani infortunato, ma due gol clamorosi tutti uguali, uguali anche quelli già presi, e quindi, poi ti rassegno, diciamo che quello che li solleva il Milan è una traversa di Leo al 96esimo, altrimenti è stato veramente un Milan sfilacciato, un Milan dove si è fatto male Calabria, si è fatto male il portiere, dove il Royale è un pacco mai visto, dove Abram sembra quasi in forma più che quando il Chelsea era un fenomeno, è nulla, però il Liverpool non è una squadra a caso, tra noi le squadre straniere c'è molta differenza, anche l'Inter domani col City, questa non è una finale che mette tensione anche al City perché doveva vincerla perché altrimenti la proprietà del City si gli avrebbe licenziati in tronco, qui si tratta di andare all'ETA da giocarsela ed è molto dura. Male, diciamo, nel senso che poi sai la contestazione, questo Milan sfilacciato, Fonseca e la protesta, gli infortuni, quando poi le cose vanno male, vanno male tutte. Hai vinto col Venezia, prima sei stato contestato, con Liverpool un disastro e poi hai il derby. A questo punto penso che giocheranno il derby con il coltello tra i denti e che se il derby dovesse vincere l'Inter, come credo, perché se questo è il Milan, l'Inter con un po' di impegno lo vince, poi il derby non si sa mai. Però a quel punto lì, se fai così pochi punti, se il progetto viene bocciato dal campo e anche da chi l'ha costruito, dai giocatori, a quel punto devi cambiare, ma adesso non lo so che allenatore c'è pronto. Pioli sta andando in rabbia, a parte che non credo che avrebbero ripreso Pioli. Però ecco, situazione drammatica al Milan, molto pesante. Poi ripeto, calcolando che la Champions è un torneo a sé e calcolando che c'è il derby, calcolando che con Venezia hai vinto, ripeto, o ci sono cose che non sappiamo e c'è una frattura ed è una cosa insanabile, quindi meglio cambiare subito, perché come è successo a Napoli di Garcia, cioè è una roba che non funziona, come all'Inter con Gasperini, quando non funziona, via, cambiare. Prima cambi e meglio è. Però insomma questo è il Milan, mentre invece la Juve ha giocato bene, non ha giocato ottimamente, però rispetto alle gare pagliacce, ridicole che ha fatto, nel senso, cioè con come Verona non le calcolo neanche. Poi appena le partite si sono fatte un po' semiserie con la Roma e con l'Empoli la Juve ha fatto ridere. Oggi l'attacco si è svegliato, Vlaovic non segna neanche se gli mettono la palla sulla testa e lo accompagnano in porta con un treno, però ha fatto un bellissimo gol Ildiz, che nei piedi ha quel gol. González è sembrato operativo, con Meneas comincia a prendersi centrocampo e Douglas Luiz questo sconosciuto, però la Juve batte il PSV campione d'Olanda, il PSV di tante nostre vecchie conoscenze, vecchie conoscenze anche di Motta. Non mi aspettavo un risultato così rotondo, devo dire che la Juve è stata ordinata, è stata precisa, è stata in campo diversa, mi è sembrato proprio un 4-3-3 molto puro e quindi sono in risalita. Hanno vinto loro, credo che abbia vinto il Real, ho visto i risultati fino alla fine, il Bayern ha distrutto, mi pare, la Dinamo Zagabria. Quando ho visto 8, madonna mia. Io oggi ho detto 4-5-0, ma 8 sono tantissimi. Nulla, adesso aspettiamo le altre italiane, Inter, Atalanta e Bologna, Juve e Milan le abbiamo viste, è una Champions dove secondo me rispetto all'anno scorso è cambiato poco a livello di sorprese, a livello di squadre. Questo Liverpool a tratti mi è piaciuto, come al di là della stima che non ho per Klopp come uomo, come radical chic del cazzo, però mi è piaciuto, ci sono i momenti di cui veramente giocavano bene, fraseggiavano e quasi passati in penù, però hanno anche uno squadrone. Quindi Liverpool, una delle squadre che questa Champions la può vincere, dal portiere all'ultima riserva sono forti. Milan male, Juve bene e domani l'Inter. E c'è tanto, tanto da dire, soprattutto su Guardiola, che ogni volta che parla a me mi fa incazzare. Ancora godo, ancora godo per Barcellona 2010. Guardiola di merda.